Quale coppia di Ink potrà dire la sua nel meta attuale di l'Orkana? Quali dinamiche muoveranno il deck in questione? E come si comporterà in un torneo organizzato? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Nell'ultimo video a tema l'Orkana, dove abbiamo visto i mazzi più forti che si presenteranno ai blocchi di partenza durante il secondo atto del TCG targato Disney, tra i commenti mi è stato suggerito un archetipo ben specifico, ovvero il Papsicle. Incuriosito, quindi, ho iniziato a cercare informazioni a riguardo, vagando dapprima nel blog di Fantasia Store, dove lì ho trovato le risposte a tutte le domande che mi ero posto, ovvero quali ink formeranno questo deck, le carte essenziali e come giocarlo in partita. E sarà proprio in questo video, quindi, che grazie al lavoro eccellente di Andrea Cavallari, membro del team l'Orkana League Italia e al supporto degli stessi signori di Fantasia Store, esploreremo le meccaniche che muoveranno questo deck, che vedrà importanti sinergie e incastrarsi tra loro permettendovi così di accumulare quanti più punti lore nel minor tempo possibile. Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, così crescendo potrò portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram, dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite, molto altro ancora, e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme il mazzo Rubino Zaffiro Control. Andiamo a dargli un'occhiata. La combinazione Rubino Zaffiro, contrariamente a quanto avveniva con le carte del solo First Chapter, vanta ora un'ottima sinergia, alimentata principalmente dalla presenza di tre carte fondamentali per la costruzione della strategia. Popsicle, Hiram Flavorsham Toymaker e Nick Wild Wild Fox. La sinergia tra queste carte si basa sulla possibilità di giocare i Popsicle, esiliarli con Hiram Flavorsham per pescare due carte e poi recuperarli dalla pila degli scarti con Nick Wild per giocarli nuovamente. Questo già notevole motore di pesca, inoltre, ottiene ulteriore supporto dalla presenza di Judy Hopes, Optimistic Officer e Maurice's Workshops, altri due esempi di grande sinergia tra item e personaggi tipica di Zaffiro. Basandosi su questo efficiente draw engine, il mazzo tende a ottenere grande vantaggio durante il mid-late game. A contorno, quindi, vengono sfruttate le carte più forti dei due inchiostri, che delineano uno stile di gioco improntato al controllo. Si parla naturalmente di Haze Infernal Shemmer, Maleficent Monstrous Dragon, Dragonfire, Let It Go e Be Prepared. Come si può facilmente notare, questa strategia prevede un grande numero di carte dal costo elevato, motivo per cui è presente un piccolo pacchetto di ramp composto da Grammatala e Fishbone Quill, che ci permettono di impostare con maggiore velocità il nostro piano di gioco. La presenza di Titten Ambition è molto utile per arginare le minacce avversarie durante l'early game, assoluta necessità del mazzo. La canzone a costo 2 trova buona sinergia con Grammatala Storyteller, che sacrificandosi sfrutta il suo ruolo di carta ramp, ma anche con Minnie Mouse Always Classy. Quest'ultima infatti non verrà esiliata in seguito ai danni di Titten Ambition, permettendoci di contrastare al meglio le minacce a basso costo avversarie. Concludere la lore race, e quindi la partita, sarà invece compito di Tamatoa Soshaini, carta emblematica del mazzo, in grado, grazie a tutti i nostri item, di questare per una notevole quantità di punti lore. Non è infatti improbabile accumulare 5 o 6 punti lore con una singola quest di questo personaggio, senza contare che la sua abilità What We Have Here permette di recuperare gli oggetti che abbiamo esiliato nel corso dei turni precedenti. Tra gli item che supportano la nostra strategia troviamo a completamento Shield of Virtude, carta a basso costo che ci permette non solo di proteggere i nostri personaggi fondamentali, evitando che vengano sfidati, ma anche di incrementare il numero degli item che rappresenteranno il cuore del mazzo. Mazzo che vanta molti personaggi in grado di creare giocate tempo 2x1, come Lady Tremere, Imperius Queen, e Hayes, Infernal Shemmer, che permetteranno di creare non pochi problemi ai mazzi mid-range del meta. A differenza del classico e popolare ametista Rubino Control, inoltre questa variante ha la possibilità di contrastare gli item avversari grazie a Judy Hopes, Optimistic Officer, fattore non da sottovalutare in un meta ricco di Lantern e The Sorcerer Spellbook. Per quanto riguarda i match-up invece, le liste aggro saranno sicuramente il peggior match-up che potremo incontrare in partita. Un accoppiamento di questo tipo ci vedrà costretti a mulligare mani iniziali alla ricerca di specifici elementi, come la combinazione di carte Minimouse, Grammatala e Titan Ambition, che risulterà pressoché indispensabile per poter reggere l'urto delle piccole e medie minacce avversarie. Solo addentrandoci nel late game, grazie a carte come Be Prepared, Dragonfire o Let It Go, potremmo sviluppare liberamente il nostro gioco e vincere la partita. Una particolare attenzione, anche una volta superate le fasi iniziali della partita, deve necessariamente andare ai mazzi ametista che, utilizzando carte come Arthur, Wizards Apprentice e Merlin Goat, sono in grado di ribaltare con grande facilità la loro race. Ce la vedremo bene invece contro mazzi mid-range e ramp, perché i nostri 2x1 e le vrate saranno armi fondamentali contro qualsiasi tipologia di questo mid-range. Rubino Zaffiro controlla alla perfezione le minacce dal medio costo e vanta a sua volta numerose minacce difficilmente gestibili. La relativa lentezza dei mazzi ramp invece ci offre la possibilità di impostare senza particolari ostacoli il nostro engine formato dagli item e dai personaggi chiave che vi interagiscono, agevolandoci l'ingresso nel late game. Mentre per il Mirror Match risulterà favorevole a chi è in grado di stabilire velocemente il controllo del campo di gioco e porsi nella situazione in cui l'avversario sarà costretto a inseguire. Questo significa utilizzare al meglio i nostri personaggi a medio costo per mettere l'avversario nelle condizioni di dover rispondere utilizzando le sue rimozioni prima che sia tempo per noi di giocare le grandi minacce come Tamatoa. Mentre Judy Hopes risulterà una carta particolarmente efficiente sia per gestire gli item dell'avversario che per rallentare il suo ritmo di gioco. In questo tipo di partite sarà importante tenere sotto controllo le carte rimaste nei mazzi in quanto spesso la sfida tenderà ad andare talmente in profondità che ci sarà il concreto rischio di arrivare a fine mazzo. Mentre per quanto riguarderà il tenere o mulligare la propria mano, se non siamo a conoscenza della tipologia di mazzo del nostro avversario potrebbe sembrare complicato capire cosa ci convenga tenere o sostituire dalla mano iniziale. Il consiglio è quella di tenere una mano in cui sia presente la carta chiave Papsicol e che si possa gestire al meglio un mazzo aggro. Per questo motivo dovremo spesso sostituire carte non inchiostrabili a medio-alto costo alla ricerca di carte come Tith d'Ambition e Minnie Mouse. Facciamo allora un esempio di scelte possibili cercando di ottimizzare quello che rappresenterà un momento chiave della partita. La presenza di Tith d'Ambition è funzionale alla ricerca nel mazzo di un personaggio come Minnie Mouse o Grammatala sostituendo carte non inchiostrabili o che non saremo in grado di giocare nei primi 4-5 turni. Andremo allora a sostituire Hades, Infernal Shemmer, Lady Tremere e Dragonfire che risulteranno inutili durante l'early game. Let it go invece è una rimozione che possiamo valutare di tenere in mano iniziale in quanto potrà essere inserita all'interno del calamaio se necessario. Tuttavia in questa specifica mano iniziale in vista di una migliore possibilità di trovare personaggi a basso costo utili contro i mazzi aggro possiamo valutare l'idea di rinunciare anche a Let it go. Prima di concludere volevo ringraziare ancora una volta Fantasia Store e Andrea Cavallari per aver messo a disposizione l'articolo sul quale questo contenuto si è basato. Ed a proposito di ciò, se vorrete leggerlo, come sempre, ve lo lascerò in descrizione. In più, volevo ricordarvi che in data 23 dicembre andrà in scena il torneo The Goat Capre e Principesse organizzato dagli stessi signori di Fantasia Store dove i personaggi Disney potranno sfidarsi in un evento all'insegna del divertimento in quel di Milano. Per maggiori informazioni in merito, anche in questo caso, troverete tutto l'occorrente attraverso il link che vi ho lasciato in descrizione. Di certo questo mazzo potrà dire la sua nel meta attuale attraverso sinergie micidiali che se non fermati in tempo breve vi garantiranno la vittoria. Inoltre, con la stabilità dello Zaffiro e il tasso di distruzione del Rubino, servirvi di questo binomio spettacolare sono sicuro vi farà divertire e non poco, affrontando gli avversari che vi ritroverete contro in match sempre più avvincenti. E voi? Avete già testato l'efficacia del control in questione durante una partita? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.